Signori facciamo un grandissimo applauso a Raul Cremona, ma io penso a Raul, un attimo Raul, vieni qua. Jimmy King era Jimmy King. Nella parte di Ceri Manipolini, Jimmy King. Rosa, non perdono, Giorgia era Jimmy King. Sapete chi era Raul Rosso? Jimmy King. La direzione del locale vi dà appuntamento domani sera per passare una gran bella serata in compagnia di Jimmy King. Grazie, grazie perché questa sera mi avete insegnato qualcosa di straordinario, qualcosa che porterò sempre con me qua nel portabagagli del mio cuore. Grazie. E' quello che volete. Ma non fatemi dire una palla a mio nome. Ecco il volume.